Cari amici buongiorno e ben ritrovati, sono qui al mare un paio di giorni per ricaricare le pile in vista della prossima stagione dopo tutta la faticaccia che abbiamo fatto per vincere il campionato europeo e quindi mi sono concesso un paio di giorni di relax vi faccio vedere anche dove sono, questo meraviglioso posto bene, allora, volevo parlare con voi di un paio di cose relative al Milan naturalmente che l'altro ieri ha giocato la sua prima partita anche se in realtà poi è stata più che altro una sgambata, più che una partita abbiamo vinto naturalmente senza grossi problemi anche perché abbiamo vinto con tutto il rispetto senza avversari e in ogni caso ritengo per esperienza che queste partite dicano poco o nulla, ma veramente poco o nulla in generale le amiche voli estive, anche con avversari più importanti, sono utili semplicemente per mettere minuti nelle gambe per forse anche fare delle valutazioni in merito ad alcuni giocatori se possono essere utili nel contesto di una partita alla stagione che arriva ma sinceramente null'altro quindi prenderei pochissimo delle indicazioni che ci ha dato la gara dell'altro giorno forse tra tutte l'unica nota veramente interessante è il fatto che Pobega abbia giocato bene anche nel centrocampo a due e abbia anche dimostrato con le dichiarazioni post partita di voler rimanere al Milan poi vedremo insomma quali saranno le scelte sinceramente posso capire da un lato che ci sia la necessità anche di vendere qualcuno perché fino a questo momento abbiamo comprato ma al di là dei nostri amici che ci hanno salutato a parametro zero non abbiamo venduto praticamente nessuno e quindi c'è anche bisogno di vendere è chiaro che non tutti i giocatori hanno mercato ed ecco perché un giocatore come Pobega può essere ceduto dall'altro è un giocatore che io insomma che ritenevo interessante già due anni fa ai tempi del Pordenone che tutto sommato ha giocato nel complesso una buona stagione l'anno scorso con chiaramente le difficoltà dell'approccio alla nuova categoria con le difficoltà di giocare in una squadra che si deve salvare però ecco credo che l'esperienza di Pobega allo Spezia sia stata importante anche perché comunque lo Spezia è una squadra che aveva per impostazione del suo allenatore la volontà di giocare a calcio quindi era una squadra che faceva come dire catenacci o difese oltranza o quant'altro voleva giocare a calcio e anche questo è importante per la crescita del ragazzo nella categoria staremo a vedere questa è la prima indicazione la seconda indicazione mi è piaciuto molto il gol di Leao non solo nell'esecuzione ma anche nella costruzione dal portiere a Daniel Maldini a Daniel Maldini a Leao cioè in tre passaggi erano in porta è chiaro che una situazione del genere non è replicabile con squadre di Serie A non è replicabile nelle partite che contano però ecco questa verticalità mi è piaciuta nell'esecuzione dell'azione tutto qua credo per il resto poco altro anche perché la preparazione è appena iniziata anche perché non è che ci sia ancora un livello tale che ci permetta di fare nemmeno delle considerazioni di natura fisica si va avanti, si lavora si prepara alla prossima stagione adesso arriveranno dei test che comunque andranno visti anche nell'ottica magari diciamo dell'impegno di alcuni giocatori si è parlato molto in questi giorni dell'approccio di Leao ma io sinceramente non gli darei molta importanza non ho visto un layout diverso da quello che abbiamo visto di solito per cui non mi aspetto nulla sinceramente non mi aspetto un granché nemmeno in generale da un punto di vista di crescita per ragazzo speriamo che tatticamente possa essere sistemato al posto giusto speriamo che soprattutto soprattutto se si decide di tenerlo se si decide di continuare a puntare su di lui lo si faccia con la consapevolezza che c'è bisogno di accelerare il processo di maturazione di questo ragazzo che rischia di finire nel pentolone di tutti quei giocatori dotati di talento ma che poi non riuscivano a farlo diventare a far diventare il talento una carriera una carriera importante per cui vedremo insomma vedremo anche poi come si muoveranno anche in uscita come dicevo perché non c'è solo il mercato in entrata ma c'è anche il mercato in uscita tra l'altro Castiglieco ha fatto anche un bel gol che simpaticamente ha sollevato un po' tra i tifosi del Milan la questione di metterlo in mostra diciamo che si è messo in mostra e vedremo comunque vabbè insomma al di là di questo abbiamo visto anche la partita dell'Inter ad esempio insomma giocavano con tante seconde linee non si possono fare grandi valutazioni le amiche volestive secondo me possono servire per le squadre che cambiano l'allenatore possono aiutare a capire un po' come giocheranno le squadre le prime impostazioni le prime mosse di natura tattica quindi questo sì ma per noi insomma che siamo ripartiti da dove avevamo finito più o meno vedremo col tempo vedremo anche con l'inserimento dei nuovi è arrivato Ballot Touré è arrivato Giroux è tornato Brian Dias insomma adesso continuiamo a muoverci così tra l'altro tra l'altro ho letto le dichiarazioni di Giroux e devo dire che mi sono molto piaciute mi sono molto piaciute non solo per diciamo lo spirito col quale è arrivato il Milan che è sempre importante ma anche per come dire è una certa spavalderia che sapete a me tutto sommato non dispiace ora io sono di natura una persona molto molto razionale quindi non mi lascio andare a slanci di entusiasmo non mi lascio andare generalmente nemmeno a slanci di pessimismo valuto le situazioni però però siccome nel calcio lo sapete meglio di me serve anche un po' di un po' di spavalderia ecco un po' di sbruffoneria non mi è per nulla dispiaciuta la dichiarazione di Giroux punto voglio vincere lo scudetto vogliamo vincere lo scudetto ecco io apprezzo la politica del passo dopo passo sicuramente è giusta perché non si deve caricare di troppa pressione l'ambiente eccetera eccetera tutte le cose che sapete e che leggete tradizionalmente sui giornali o nelle dichiarazioni dei nostri dirigenti del nostro allenatore però ad un certo punto arrivati a un certo punto io trovo anche giusto che come dire il tifoso si sentisse dire ci piacerebbe vincere puntiamo vincere puntiamo a perché se continuiamo a dirci che dobbiamo puntare a migliorare dobbiamo puntare a crescere eccetera eccetera va benissimo però ad un certo punto come dire l'ambizione va anche alimentata cioè l'ambizione va anche un po' spinta e ci si deve anche un pochino lasciare andare naturalmente ci deve essere la consapevolezza che questo possa accadere ovviamente ogni riferimento alla nazionale di Mancini è puramente casuale ma nel senso il fatto che lui parlo del commissario tecnico sia arrivato in nazionale abbia detto io voglio riportare l'Italia a vincere un torneo dopo tanti anni eccetera beh insomma già uno chiaro poi dopo se non l'avesse vinto gli avremmo dato del cazzaro probabilmente però il punto è che secondo me la mentalità vincente che porta questo tipo di giocatore ecco perché io sono contento che sia arrivato Giroud perché è un giocatore con la mentalità vincente perché è uno che ha vinto io credo che serva proprio perché la forma delle dichiarazioni possa passare da vogliamo crescere vogliamo fare un passo in più ci vogliamo confermare eccetera a vogliamo andare a vincere vogliamo vincere il campionato vogliamo essere perlomeno vogliamo essere protagonisti per la vittoria del campionato io credo che tra l'altro dal mio punto di vista non sarebbe nemmeno una balla colossale nel senso che non vedo per quale motivo il Milan che ha consolidato buonissima parte del gruppo dell'anno scorso che porta avanti un progetto serio con idee chiare non vedo per quale motivo non possa ambire a vincere il campionato perché no io credo che questa squadra possa farlo poi dopo che ci riesca è un altro discorso naturalmente però non vedo nessun motivo che ci porti a pensare di essere in questo momento inferiori ad altre squadre inferiori alla Roma al Napoli alla Lazio diciamo vedremo poi anche il mercato delle altre forse nemmeno tanto inferiori alla Juventus detto tra di noi perché l'anno scorso non so che mercato faranno ma bene o male sono quelli dell'anno scorso anche loro quindi Allegri che è sicuramente più esperto più tutto rispetto a Pirlo però non è che sia uno con la bacchetta magica quindi vedremo che cosa succederà ecco io credo che ragionevolmente possiamo pensare che il Milan farà un torneo importante perché c'è una campagna acquisti ripeto sensata una campagna acquisti intelligente fatta con lo scopo di portare anche a Milan giocatori con questo tipo di mentalità ecco mi piace questa idea di poter pensare ad un Milan vincente vi saluto torno al mare buona giornata a tutti alla prossima grazie a tutti grazie a tutti